Tommaso Zorzi è pazzo dei suoi cuccioli. Il vincitore del grande fratello Vippo, ora conduttore ed opinionista, si rilassa con la sua cagnolina Gilde, con il nuovo arrivato, un gatto di nome Priscilla Aurietta. Da grande amante degli animali, Tommy ha confessato di essere pazzo dei suoi amici a quattro zampe, ma non solo. Presto la famiglia si allargerà, Zorzi è sicuro che prenderà altri gatti prima o poi. Grazie per la visione!